Ancora paura sulle strade della provincia di Salerno. Venerdì pomeriggio sulla strada statale 691 Fondovalle Sele si è verificato un violento incidente stradale. L'impatto è avvenuto all'altezza di Valva, tra un tir e un'auto su cui viaggiava una famiglia di 5 persone, marito, moglie e tre figli, tra cui un bambino. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno prestato soccorso a 4 persone rimaste ferite, trasportate in diversi ospedali salernitani, ma data la gravità dell'incidente è stato opportuno anche l'utilizzo di un'aliambulanza. Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine, i vigili del fuoco del distaccamento di Lioni e gli operatori dell'ANAS. A causa dell'incidente la strada statale è stata temporaneamente chiusa per qualche ora, mandando in tilti il traffico stradale.